C'è un uomo, va dallo psicologo, gli fa Dottore, 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 guardi, mi aiuti, mi aiuti, mi aiuti, sono disperato, c'ho un problema, c'ho un problema, c'ho un problema Mi dica, che posso fare per lei? Sa, io, guardi, è da quando sono bimbetto che c'ho un incubo E che incubo c'ha? Eh, guardi, io c'ho un incubo che sotto il letto c'è un pazzo psicopatico criminale che mentre dorme c'è da sotto il letto e mi ammazza Dottore, dottore, ma mi può curare, mi può risolvere sto problema? Che non ne posso più Certo che la posso curare Dottore, ma quanto mi viene a costa? Ma, eh, senta, 50 euro a seduta, beh, saranno 20, no, 20 non bastano, 30 sedute Sì, che dè, questo ci pensa un po' di no No, 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 dottore, guardi, lasciamo fede, sono troppi soldi, sono troppi soldi, sono troppi soldi, non me li posso permettere Sì, che dè, passa qualche giorno, lo psicologo per la strada incrocia il paziente, gli fa Allora, ci ha ripensato, ha deciso, no, no, guardi, dottore, ho risolto il problema Ah, e come ha fatto? Guardi, con due birre e un bicchiere di vino me la son cavata Due birre e un bicchiere di vino? E che ha fatto? Sì, ho chiamato il falegname e mi ha segato le gambe del letto